Oltre 200 ritardi al giorno, più di 100 aeree in partenza, almeno 15 minuti dopo l'orario prestabilito. In alcuni casi i voli sono anche più di 200. Tra il 30 luglio e il 12 di agosto compresi, problemi anche per Alitalia, mai puntuale in questo arco di tempo. Il picco il 30 di luglio con addirittura 92 ritardi in sole 24 ore. Dati allarmanti, quelli snocciolati dal CUP Trasporti Lombardia che evidenzano come un terzo dei voli sia regolarmente in ritardo di oltre 15 minuti. Non solo chi è in partenza alla Malpensa, infatti, una volta arrivato a destinazione è costretto ad ore e ore di attesa prima di ricevere il proprio bagaglio. Le valigie rimangono a terra in brughiera per diverso tempo per poi essere trasportate sul luogo indicato. Aspettative disattese ad oltre 20 giorni dall'avvio del bridge, l'inglobamento di Linate in Malpensa. I massimi dirigenti di SEA, sostengono dal CUP Trasporti Lombardia, volevano dimostrare la capacità di Malpensa di poter puntare nei prossimi anni a questi livelli di traffico. Un esperimento che non crediamo debba avere un seguito. Gli stessi dirigenti, concludono dal CUP, dovranno spiegare i motivi dei ritardi della compagnia l'Italia e prendere atto dei danni subiti dal territorio, dai lavoratori e ora anche dai passeggeri.